C'era un'anomalia su questa cabina e diciamo che il capo servizio ha optato questa opzione. I ceppi erano, come ho detto, gli inquirenti erano su da tre settimane. Nessuno sono stati messi su, sono rimasti su. Non è che uno al mattino li toglieva, li metteva, li toglieva, li metteva. Nessuno si immaginava una roba del genere. Che succedeva una roba del genere. Quindi è stata una scelta dei tecnici e basta. Anch'io salivo tranquillamente sulle cabine. Eravamo sicurissimi. Non è che avevamo paura di salire perché pensavamo che la funivia non era sicura. Cioè, salivamo anche noi. Eravamo tranquillissimi, senza nessuna preoccupazione, senza niente. Penso di non avere responsabilità. Io sono tranquillo. Io, come gli ho detto alla sua collega, mi dispiace tantissimo per quello che è successo per i morti. Però io ho la coscienza pulita e sono tranquillo.